Noi siamo un team che quest'anno facciamo il quindicesimo anno di MotoGP, è iniziato un po' per gioco, perché lavorando con la Honda all'epoca, anche a tuttora, per comprare motori per gruppi elettrogeni, ci offrirono la possibilità di rilevare un team che era in difficoltà e da lì abbiamo iniziato la nostra avventura nel MotoGP. È diventata un'attività, una passione e quindi stiamo cercando di coniugare l'attività aziendale con un team che dovrebbe essere attualmente, che sarà praticamente il team di riferimento Ducati per far crescere i nuovi piloti, quindi una sorta di vivaio, come dicono in Spagna di cantera della Ducati che permette di far crescere i piloti.